si salve oggi vi faccio vedere come si installa l'applicazione ad se ben droida auto apps downloader innanzitutto dovete avere telegram dovete aggiungere questo canale qui a di poi andate ecco qui questo il sito per scaricarlo ci cliccate sopra entrate nel sito qui vedete se avete google translate potete quindi riportarlo anche in italiano vede e dovete scaricare ecco qui rilasci oppure in inglese release cliccate sopra risorse e scaricate questo file apk che sarebbe di 4.79 megabyte potete fare la stessa operazione col computer cioè scrivete nel browser questo sito github.com slash ed entrate nel sito dal coda al pc fate la stessa procedura e vi scaricate la pk sul desktop dopo di che collegate il telefono al computer andate all'interno delle varie cartelle del telefono ovviamente quando collegate riesce il pop up e dovete scegliere ovviamente tra c'è solo carica trasferimento file android auto oppure trasferimento foto voi cliccate sul trasferimento file barra android auto vi si apre una specie di explore risorse il telefono cercate la cartella download e poi copiate il file dal desktop alla cartella download e poi nel telefono cercate vedete questo gestore di file qui riesce il menu e nella qui apk trovate installa il file apk ovviamente poi cliccate sopra e vista dall'applicazione quindi basta da questa pagina qui alla pagina installato questa è l'applicazione eccola qui qui potete quei tre puntini cliccare sulle info vi dice vede tutte le sviluppatori delle varie applicazioni che potete scaricare io sono passata già la versione pro vedete nel caso non aveste la versione pro qui riesce praticamente la scritta un download a disposizione al mese quindi se scaricate una di queste app oggi che 30 aprile la prossima la potete scaricare il 30 maggio per poterle scaricare tutte quindi avere download infiniti basta passare la versione pro si clicca qui o in questo caso va bene non lo ci ha fatto entra in paypal si fa la donazione più che un pagamento di 3 50 car plus car tube invece era una una donazione quindi il caso di pagamento poi potete aprire anche una richiesta di risarcimento del pagamento nel caso in cui ovviamente non vi funziona qui vedete sono divisi in tre categorie c'è app multimediale app di mirroring e le altre app tenendo premuto il pulsante vedete vi dice che cosa serve car stream è conosciuto anche come youtube auto una delle prime app costruite con il kit di sviluppo personalizzate per android auto e sempre a porta youtube su android auto adesso clicco sopra qui posso uscire tra queste versioni vede da 2 0.2 a 2.04 e la 2.0 0.5 dell'ultima scelgo l'ultima clic ok aspetto ecco qua installa l'applicazione qui potete scegliere fine o apri io scelgo fine vi faccio vedere come installato l'applicazione con acqua car stream ora passo a fermata auto qui c'è il doppio l'opzione c'è potete installare o fermata auto e fermata auto controllo oppure fermata auto e basta fermata controllo e tipo car tube controller che la barra che vi esce sotto per andare a mettere in pausa pure andare avanti indietro in background oppure dei comandi al volante dell'auto su fermata auto io con in questo telefono qui che real mix 50 però ho dei problemi infatti vedete adesso vado a scaricare la versione fermata auto 1.7 punto 7 e poi andare a scaricare anche fermata contro nel caso in cui di scaricare sono fermata auto cliccate no nel caso in cui di scaricare entrambe cliccate ok clicco su ok in crash l'applicazione riprovo clicco su ok ecco qui installo fermata control premo fine installo fermata auto e premo fine ora se vado a vedere vedete di me stava soltanto l'applicazione fermata auto non c'è il controller poi ora vado a scaricare screen e due auto queste quelle queste ore quella un po più complicata perché vi porta vedete su un sito russo anche qui potete fare la traduzione italiano e andate a scaricare pulsante scarica qui potete scegliere la versione scegliamo l'ultima e qui dovete scegliere se installarlo con screen to auto con chrome scrisci e della prima clicco ok ecco qui installo l'applicazione e faccio fine e anche questa qui vedete la installata ora vado a scaricare a mirror sempre ok faccio installa fine eccola qui a mirror poi vado a scaricare a stream la versione 1.1 punto 0.29 ci installa fine ecco qui faccio stesso procedimento ora per tutte scarico a mirror plus che sarebbe a mirror con delle versioni una versione extra con funzionalità extra poi a questo qui performance monitor che praticamente serve per l'infotermia volkswagen skada seat audi bib 2 potrebbe anche funzionare vedete con altre marche condizioni che abbiano supporto da android auto e necessita anche l'estensione bug per essere eseguito su automobili woswagen faccio vedete qui vedete anche qui mi chiede la doppia opzione se scaricare solo performance monitor va anche a installare extensions for bug io premo ok e le salute due in questo caso perché io la la woswagen quindi performance monitor ok fine l'app andata nuovamente in crash poi qui c'è a passenger questa è un'applicazione parente permette ad un secondo utente a passeggero di utilizzare android auto vedete se colico qui richiede il passeggio deve scaricare l'applicazione a passenger però questa è un'applicazione che ancora diciamo in versione beta quindi non è definitiva poi c'è qui c'è a widget for android auto la versione 0.2.0 ovviamente per fare aggiornamenti della varie applicazioni tanto basta che cliccate sulle varie caselle e vista degli ultimi aggiornamenti quindi bisogna andare a controllare di volta in volta e poi l'ultimo che nav to contacts che prende cosa di navigare verso i contatti utilizzando i navigatori del dell'infotainment poi farò un video nell'auto vedete per navigare ora vado sul desktop vedete queste tutte le app che ha scaricato quindi la scaricate tutte ho avuto problemi solo confermata controllo diciamo che car stream è molto simile a fermata controllo solo che fermata controllo in questo caso potete navigare anche nel browser youtube invece car stream solo youtube se vuole utilizzare il browser basta utilizzare quindi di questa screen che prende per il mirroring del telefono sul sull'auto la stessa cosa fa a mirror e così via questo è il mirror plus con delle funzionalità extra l'importante è che nelle impostazioni andate in non più nelle opzioni sviluppatore come per car tube quindi ad attivare il debug qui basta cantati in sicurezza questo ve lo chiede ovviamente al momento che andate installare a di e qui nell'installazione d'origine sconosciute vedete spuntare a di perché altrimenti non mi fa installare vede nessuna applicazione se ora vado in android auto che trovo qui in connessione e condivisione qui vedete trovo tutte le app che mi dovrebbero comparire sul display dell'auto vedete c'è passengers c'è fermata control tutte le altre non ci sono che potrebbe essere anche un problema del telefono che già con questo telefono avuto problemi con car tube mi salava soltanto il controller non mi installava l'applicazione vera e propria quindi penso che per alcuni telefoni ci sia lo stesso problema in android auto importante che ovviamente entrate nella modalità sviluppatore cliccando diverse volte qui si entramo dai puntini andati impostazioni sviluppatori dovete vedete attivare origini sconosciute in modo che vi compare sullo schermo dell'auto tutte le applicazioni che avete scaricato da origini sconosciute altrimenti non vi compare nessuna per quanto riguarda la donazione a di quindi abbiamo visto che la funzione pro viene sbloccata subito basta fare il pagamento con paypal c'è solo paypal se volete scrivere a questa mail allo sviluppatore può darsi che vi da un metodo alternativo per il pagare per pagamento una volta effettuato il pagamento ovviamente vi arriva la mail di paypal la specie ricevuta fiscale e l'importante che una volta completato il pagamento sulla pagina di paypal cliccate sul pulsante ritorno al venditore una volta cliccate sul ritorno al venditore viene nella mente nell'app ad e vi esce qui sotto la scritta congratulazioni è la versione pro quindi non dovete fare nulla prossimamente penso domani dopo domani farò un video delle app che riesco a visualizzare sul sul motor dell'automobile mi sembra di aver detto tutto alla prossima